Allora, parliamo dell'attrito viscoso, attrito che c'è tra gli oggetti e i fluidi, quindi quando un oggetto si muove in un fluido, io mi sto muovendo nell'aria, fra l'aria e me c'è attrito viscoso, però vediamo un po' quanto entra in gioco l'attrito viscoso. Allora, statevi attenti, due fogli di carta uguali, identici, quindi stessa massa, se io prendo questo, vado sulla bilancia, trovo qualche grammo, questo uguale, va bene, tutto a posto? Allora, questo e questo, stessa massa, siamo sicuri? No, no, no. Scusate, li abbiamo misurati prima, se io vado di nuovo sulla bilancia e li poggio, non viene fuori la stessa massa? Certo, ma che ho fatto? Ho fatto questa cosa qua. Allora, guardiamo. Com'è sto fatto? Stessa massa? Scusatevi, stessa massa vuol dire stesso peso? Certo, perché il peso è M per G, se io moltiplico questa massa, se sei la stessa massa e siamo su un pianeta Terra, c'è lo stesso peso. E come mai? E come mai? Ehi, là dietro. E come mai? Ascoltate. Come mai? Stesso peso? Stesso peso. Perché uno arriva prima a Terra e l'altra? Alzatevi la mano e ditemelo una volta. Vai. Le dimensioni, poi. Le dimensioni, poi. Vai, dietro l'alto. Basta? Quindi dimensioni, questo lo ha cartocciato. Parliamo di attrito viscoso. Guarda là. La forza peso, avvicina, avvicina. La forza peso e la forza d'attrito che agisce verso l'alto. Allontana. Allora, se io faccio cadere questi due oggetti, la forza peso che io disegno è la stessa, sì o no? Concentratevi. La forza peso è la stessa, sì o no? No. Ma come no? Sì. Perché la peso è lo stesso. La forza d'attrito viscoso, quella che va verso l'alto, è la stessa, sì o no? Sì. No. Perché guarda, riflettete, quante molecole d'aria stanno impedendo a questo oggetto di cadere? Tante. Tantissime. Perché questo oggetto espone tutta questa superficie. Tutta questa superficie espone all'aria. Quindi molte molecole frenano questo oggetto. Quante molecole d'aria stanno frenando questo oggetto? Poche. Perché questo oggetto espone questa superficie. Ecco perché, proprio per l'attrito viscoso, che sottrae Newton alla forza peso, questo oggetto arriva prima e questo arriva dopo. Se cercate in YouTube, tubo di Newton, esperienza tubo di Newton, vedete lo stesso esperimento fatto in un cilindro nel quale c'è aria e c'è una piuma e una moneta. Io faccio l'esperimento col cilindro e con l'aria, piuma e moneta, la piuma arriva dopo, la moneta arriva subito a terra. Se io tolgo l'aria dal tubo, tolgo l'aria, faccio il vuoto nel tubo, giro il tubo, che fanno piuma e moneta? A arrivare insieme. Perché non c'è più aria e quindi non c'è più attrito viscuso. Alla prossima.